Mi aspettiamo tutti il 2 marzo, il 2 marzo è vicino e l'opening è molto vicino. 2 marzo alle 18.30, palestra aperta per la dimostrazione di tutte le discipline del Tata Capri e alle 20.30, grande evento con presentazione del mio staff. Uno staff all'avanguardia, uno staff di formatori e non solo di istruttori. Vi aspetto tutti in una musica. Alta Tata Capri, Viale Capo Terzo, ciao!